Siamo all'inizio della seconda giornata di test delle nostre nuove vetture T3 Lite, nuova classe FIA. Ieri abbiamo provato tutto il giorno in condizioni meteorologiche molto favorevoli, ma di fondo molto pesanti, con tanto fango molto piccicoso per tutto il giorno. Le prove sono state decisamente interessanti per quanto riguarda i risultati sulle vetture, interessanti per quanto riguarda le reazioni dei piloti. Abbiamo coinvolto in questi primi test un numero di piloti notevole, ieri avevano guidato in 25, anche perché ci interessa conoscere… No, abbiamo solo, le macchine non ci sono. Sì, ci sono, ma è passato dietro Renato così. Ok, vabbè, ragazzi, se no qui non finiamo più. Renato! 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 Capisco, però… Di qua o di là vuoi dire? Sì, sp Reddit quando haogi e si spostano, ti sposti anche tu, giusto? Sto spostando su di spostare, ma è sbagliato. Ah, ma va bene, fate un po' ambiente ma lo fate qua. Fammi in mente locale, non è possibile questa cosa fare. Andre, se mi fai questa cortesia, abbiamo visto, Geertemente che ha ti permesso, di infilarsi in mezzo ricomincio da capo non mi ricordo più che cazzo ho detto però ripendi si vabbè vengono bene, si vedono bene? so che c'è gente di ben alto livello che ha fatto corne in pubblico mi sento così sono tutti qua siamo all'inizio della seconda giornata di test della nostra nuova vettura ragazzi già mi giri i coglioni a fare queste cose due sono giusto siamo all'inizio della terza giornata ho smesso ho aggiunto un giorno lo faccio ancora due volte la penultima poi basta siamo all'inizio della seconda giornata di test con la nostra nuova vettura T3 Lite nuova classe FIA che corre nella Coppa del Mondo tutte le renda quest'anno adesso posso lo peggiorare quando comincia così posso lo peggiorare Mario davanti tutto a posto ok ok ok